Amici di Investing.com, sono Antonio Capaldi, consulente finanziario Fineco Bank. Oggi vedremo come ottenere profitti sull'andamento del rame. Supertrend o bolla? Abbiamo già visto altre materie prime nei precedenti video appuntamenti. Le terre rare, l'oro ad esempio. Con il rame la situazione è diversa. Viaggia sui massimi storici, con un'escursione minimo massimo tra marzo 2020 e maggio 2021 di circa il 134%, posizionandosi ora in area a 4,45 dollari sul contratto Futures dicembre 2021. Se ritieni che sia in bolla e che nei prossimi mesi possa esserci una normalizzazione dei prezzi, e se non hai dimessichezza con i margini dei Futures oppure ancora se i CFD e le opzioni non sono il tuo pane quotidiano, seguimi e scopriamo insieme come sfruttare un eventuale ritracciamento del rame con un ETC non armonizzato di Wisdom Tree, con l'ISIN che vedi a schermo. Se invece pensi che stiamo vivendo un supertrend destinato a durare ancora, seguimi lo stesso. Vedremo come comportarci anche in questo caso, con un altro ETC sintetico di Wisdom Tree. Oggi applicheremo il problem solving strategico. Partiamo dall'opportunità legata a questa materia prima, passando per l'applicazione pratica, concludendo infine con il contesto di mercato che genere il nostro interesse verso il rame. Diamo un'occhiata al CFD con il codice a video. Se ritieni che le attuali quotazioni siano eccessive, la strategia più corretta è vendere il rame sempre con una size gestibile e applicare la nostra solita strategia martingala, vendendo ulteriormente a soglie percentuali di perdita prefissate, raddoppiando il controvalore investito fino ad un prezzo di mercato in prossimità del massimo registrato a maggio. Ad esempio, guardando il grafico a video, con una distanza di circa 10 punti percentuali dal massimo, farei tre ingressi, uno adesso, uno di pari importo sul meno 5%, e l'ultimo raddoppiando il controvalore investito se si raggiungesse il massimo. Se invece ritieni che il rame è nel superciclo, acquista una size adesso e applica la strategia martingala dosando la liquidità disponibile e la grandezza della size per essere in grado di gestire una situazione di mercato avversa, fino ad esempio ad una situazione limite di meno 50%. Vediamo infine come innessare le due strategie insieme. Posso applicare la prima, short, e a superamento del massimo di una percentuale che riduca le possibilità di falsi segnali, chiudere la posizione e attuare la seconda strategia, long. Con l'ETC di Wisdom 3, con Isin e Sigla Schermo, perseguiamo l'idea che i prezzi del rame siano in bolla. Dopo il primo ingresso, come dal grafico, attenderemo ribassi del 5%, per mediare raddoppiando le size fino ad arrivare al minimo storico registrato da questo ETC. Siamo invece dell'idea che rame in supertrend? Di nuovo prendiamo in considerazione l'ETC di Wisdom 3, con Isin e Sigla che vedi a schermo. Calibra gli ingressi con la nostra strategia, considerando anche i supporti in area 7,20€ ed il più lontano a 6,50€. Ti ricordo che entrambi gli ETC considerati sono non armonizzati, dunque dovrai riportare le performance conseguite in dichiarazione dei redditi, poiché soggetti a tassazione ordinaria per scaglioni IRPEF. Inoltre, essendo sintetici, subiscono l'effetto con tango e backwardation in maniera decisa, rendendo così la performance attesa probabilmente differente da quella realizzata. A supporto di ciò che ci dicono i grafici, il rame è il protagonista principale del 2021. Al centro della transizione energetica in atto, il suo utilizzo è massivo nella produzione e la ristrutturazione degli impianti sostenibili. È totalmente riciclabile ed è un ottimo conduttore di elettricità, rendendosi così essenziale nel campo delle energie rinnovabili. La Cina ne è il maggiore esportatore e, come commenta Benjamin Loe, portfolio manager del fondo di Ofi Precious Metal, ci sono tutti gli ingredienti macroeconomici per considerare il contesto attuale del rame un superciclo e non una bolla speculativa. Le premesse quindi ci sono a supporto di un supertrend, ma molti esperti hanno anche un pensiero divergente, che tende quindi ad una sovravalutazione di questo asset. Norman Villamin dichiara che a maggio il rame ha raggiunto i massimi di sempre sulle ali della crescente domanda di veicoli elettrici e ha la tendenza verso l'energia verde delle maggiori economie globali. Il rame è infatti uno degli elementi fondamentali per produrre questi veicoli, in quanto gran parte dei condotti elettrici contengono rame. Da anni però l'industria mineraria estattiva non investe più nella capacità di produzione di minerali industriali chiave e quindi la forte domanda di materie prime necessarie per produrre i beni, anche in questo caso le autovetture elettriche, ha portato il prezzo del rame a toccare nuovi picchi. Poi aggiunge che il suo team è convinto che si tornerà di investire nelle capacità di produzione ed estazione di queste materie prime, ma ci vorrà del tempo e nel frattempo il prezzo della materia prima continuerà a salire, generando di conseguenza un aumento del costo finale del prodotto. La transizione energetica è dunque ad alta intensità di rame, prosegue Loe, Per poi precisare che la capacità produttiva di energia eolica annuale dovrebbe essere moltiplicata per 4 ogni anno da qui al 2030, secondo la tabella di marcia dell'International Energy Agency, per emissioni nette pari a 0 entro il 2050. Poiché una turbina eolica contiene tra 950 kg e 5 tonnellate di rame, a seconda della sua capacità di potenza, si può immaginare l'impatto sul mercato del rame. Poiché occorrono dei 6 agli 8 anni per rendere produttiva una nuova miniera, bisogna affrontare questa situazione con la capacità produttiva esistente. Non favorevole al supertrend è Livio Spadaro, Portfolio Manager di Frame Asset Management. Spadaro non vede un innalzamento strutturale della domanda del rame, invece addebitata alla forte domanda di Pechino è transitoria. In tal senso si dichiara che gli sforzi economici delle maggiori economie per la rivoluzione green sono ingenti, tuttavia si sottovaluta lo scarso impegno della Cina che non sta riducendo le emissioni di CO2, quindi il team di Spadaro ritiene che la svolta green in Cina sarà molto più lenta di quanto si prevede. Si è scettici anche per quanto riguarda la futura domanda di veicoli elettrici, che potrebbe essere ossacolata dai costi di produzione, di consumo e di riciclo dei materiali ancora elevati e dalla carenza delle infrastrutture di mantenimento. Inoltre la domanda attuale è stata generata prevalentemente dagli stimoli fiscali implementati in alcuni dei maggiori paesi, con Stati Uniti su tutti, ma non da un sostanziale miglioramento dell'occupazione del reddito, la cui ridistribuzione è alla base dell'innesco di un supertrend. Quindi, finiti gli stimoli, anche la domanda potrebbe scemare a fronte di un maggiore costo di produzione dei beni. Conclude Spadaro che occorre considerare che le aziende attive nell'estrazione intraprendono nuovi progetti solo nel caso in cui vi sia un aumento strutturale dei prezzi, dunque con una domanda sana, piuttosto che un aumento di prezzo dettato dalla speculazione, che è il caso dell'ultimo rialzo delle materie prime. Le aziende, dunque, per giustificare un aumento dell'offerta, aspettano che ci sia un aumento della domanda, che per ora non c'è, motivo per cui il superciclo può attendere, mentre in un'ottica di prezzo di breve termine, è sicuramente salutare il fatto che l'offerta non venga aumentata, anche se comunque siamo su livelli di prezzo ancora molto alti rispetto alla reale ripresa economica, che comunque c'è, ma non così vigorosa. Contattami per gestire insieme a te i tuoi obiettivi di investimento e seguimi sul mio blog personale, accessibile dal sito www.antoniocapaldi.it Buon investing a tutti e sempre occhio al VIX. Ciao!